Si diceva che dopo la morte di Tony in molte e molti abbiamo cominciato a interrogarci sulla sua eredità, su quello che ci lascia. Non è un'interrogazione semplice, ci occuperà a lungo in futuro. Cominciamo con dei frammenti. Io oggi vorrei ricordare che Tony è stato molte cose, è stato anche un intellettuale e perfino un professore universitario. Vorrei domandarmi che tipo di intellettuale è stato e fare una domanda di questo genere a proposito di Tony significa anche domandare come ha cercato di definire il significato della funzione intellettuale, della funzione di produzione teorica dentro le lotte, dentro i movimenti. Penso che sia evidente che il modo in cui Tony ha interpretato il rapporto tra lavoro teorico, intellettuale e militanza politica non può essere ricondotto alle due categorie maggiormente influenti nella storia del Novecento, in particolare della seconda metà del Novecento. Tony non è stato un intellettuale organico in senso gramsciano, non è stato un intellettuale organico soprattutto nel modo in cui i partiti comunisti nell'Europa occidentale, non soltanto in Italia, hanno interpretato la figura dell'intellettuale organico in qualche modo subordinandola all'organizzazione, al partito. Ma Tony non è stato neanche un intellettuale engagé, impegnato, un intellettuale cioè che abbia in qualche modo dall'esterno sostenuto delle cause politiche. Tony ha piuttosto sviluppato nel corso dei lunghi anni della sua vita intellettuale e politica la virtualità contenuta nelle pratiche dell'inchiesta operaia della corricerca degli anni Sessanta. In queste pratiche evidentemente la funzione intellettuale era del tutto interna alla costruzione di rapporti politici in funzione della lotta. Evidentemente questa pratica dell'inchiesta operaia è stata fondamentale non soltanto per Tony ma per un'intera generazione in questo Paese. La sociologia del lavoro, la sociologia industriale è nata in buona misura dall'esperienza dell'inchiesta operaia. Credo che la peculiarità di Tony, certo non solo, ma lui l'ha fatto in un modo particolarmente efficace sia consistita nel tentativo di sviluppare quella che ho chiamato, non a caso, la virtualità contenuta nella pratica dell'inchiesta operaia oltre la fine del grande ciclo di lotte degli anni Sessanta all'interno delle fabbriche dentro condizioni materiali profondamente rinnovate. Lo hanno ricordato in molti prima di me quest'oggi. Ecco, in questo tentativo di tenere ferma la virtualità dell'inchiesta operaia e di trasformarla in una chiave più generale per l'interpretazione del rapporto tra lavoro intellettuale e militanza politica, credo che sia uno dei lasciti più importanti di Tony che in qualche modo ci sfida a proseguire questo tipo di esperienza nel modo in cui facciamo lavoro intellettuale e nel modo in cui facciamo militanza politica cercando di pensare come rapporto interno il rapporto tra lavoro intellettuale e militanza politica il che significa non renderli indistinti ma piuttosto pensare continuamente la loro connessione, sviluppare la loro connessione come elemento che consente di generare potenza dal punto di vista teorico e dal punto di vista politico. Ci sarebbe da dire qualcos'altro a proposito del modo in cui Tony ha interpretato il suo ruolo di professore universitario negli anni 60 e 70 in questa città dove ancora richiede di essere riconosciuto nonostante la cecità delle istituzioni universitarie, ci sarebbe molto da dire sul modo in cui ha proseguito il suo lavoro universitario una volta in Francia e poi in diverse parti del mondo ma penso in fondo che quello che dicevo a proposito della virtualità contenuta nell'inchiesta operaia funzioni molto bene anche per pensare molto concretamente il modo in cui chi è dentro l'università oggi e si reputa comunista deve lavorare. Grazie.